Ciao a tutti ragazzi bentornati su Starlet's Tube, approfitto di un po' di frescura, siamo a martedì, oggi è martedì 26 che sto girando ma voi starete guardando questo video di venerdì perché essendo che mi sono ritrovata diciamo con un buco libero non sapevo cosa fare, così su Instagram, link in descrizione, ho messo un sondaggio su quale reaction avreste preferito come video di questo venerdì e ho messo la scelta tra quello di She-Hulk e quello di Wakanda Forever che è il secondo film dedicato a Black Panther, ha vinto devo dire per poco appunto quest'ultimo che devo ammettere, vi dirò la verità ragazzi assoluta e sincera non sono molto curioso per quanto riguarda questo film, perché dico questo? Perché Black Panther è il film della Marvel che mi ha preso meno, per quanto abbia assolutamente apprezzato il messaggio che quel film voleva mandare verso le comunità di colore, infatti quel film è molto importante per loro, non mi ha entusiasmato più di tanto però devo dire che il compianto Chadwick Boseman ha dato una buona interpretazione di T'Challa e di conseguenza anche di Black Panther e qui sono curiosa soprattutto anche di sapere chi è che prenderà il suo posto perché come sapete Boseman purtroppo è scomparso a causa di una malattia quindi di conseguenza adesso bisognerà vedere chi raccoglierà lo scettro, anzi l'armatura della Pantera Nera, più che altro a me è questo che mi incuriosisce non so niente, vi dirò la verità, sono veramente poco informata su questo franchise, mi riguardo proprio a mente libera, mente apertissima e tutto quanto senza particolare aspettative, senza particolare affezione, chiamiamola così, il cast comunque di tutto livello perché soprattutto c'è Danai Gurira che è Michonne di The Walking Dead, per quanto io odi Michonne ormai e solo l'idea di rivederle in uno spin off con Rick, mi fa saltare l'embolo Danai invece mi piace molto, trovo che sia una brava attrice e quindi sono contenta insomma che si sia ritagliata un ruolo nella Marvel anche perché Okoye è un personaggio tutto tondo che a Michonne le può solo spisciare casa quindi ragazzi che dire, dai guardiamoci questo trailer e vediamo un po' che cosa ci si aspetta da questo film Marvel la canzone è molto bella eccole qui con Wakanda eccola qui le Dora Milagi si sente molto però la nostalgia oh scena molto di impatto bello porca aia casini all'orizzonte oh la madonna foca assassino ah ecco Shuri madonna che bordello è però visivamente eccola qua vai Okoye madonna ma comunque si preannuncia molto dinamico porca troia minchia la guerra eeeh uh Wakanda Forever chissà chi prenderà il posto di T'Challa perché non c'è che ce lo spiegano allora il trailer è molto interessante come vi ho detto io l'ho guardato proprio a mente libera senza nessuna aspettativa visibilmente sembra molto molto bello molto spettacolare con questa scena appunto con questa balena sembra una balenotta una balena comunque qualche mammifero comunque a cui sono aggrappati delle persone quindi questa è molto bella la scena del parto in acqua molto suggestiva è un trailer molto nostalgico infatti voglio anche capire un momento come giustificheranno l'assenza di T'Challa perché appunto c'è la madre se non sbaglio appunto è la madre interpretata da Angela Bassett che dice tutta la mia famiglia è morta cos'altro devo dare quindi io voglio capire come giustificheranno la scomparsa di T'Challa perché lui era sopravvissuto alla guerra contro Thanos quindi boh sinceramente non lo so che cosa che pretesto useranno è più che altro quello io spero che non utilizzino un pretesto fatto così ad Minchiam perché sarebbe come sputare appunto su la memoria dell'attore sulla personaggio e anche sul messaggio che quel personaggio trasmetteva soprattutto alle comunità di colore quindi spero ovviamente che abbiano trovato un buon pretesto nostalgico proprio il ritratto proprio di Chadwick sul muro spero di vedere la verità non si vede chi è effettivamente a indossare l'armatura di Black Panther spero che non sia Shuri perché sarebbe totalmente fuori contesto per quanto lei sia la sorella non ce la vedo non ce la vedo proprio quindi boh staremo staremo a vedere insomma la curiosità c'è sono abbastanza curiosa quindi penso che lo vedrò penso che lo vedrò non so se andrò al cinema se aspetterò che lo mettano su Disney Plus perché come vi ho detto Black Panther purtroppo per quanto fosse forte il messaggio e tutto il resto è il film della Marvel che mi ha interessato meno e che mi ha preso meno quindi di conseguenza io che mi sono voluta fare la frangetta d'estate e me lo state dicendo tutti su Instagram ma fa niente finirà sto caldo dio santissimo quindi di conseguenza vedrò se andarlo a vedere al cinema oppure aspettare che lo mettono su Disney Plus perché tanto ormai dopo un paio di mesi, due o tre mesi li mettono lì quindi adesso deciderò vedrò un po' gli orari del cinema e tutto quanto il periodo in base alla che uscirà il 9 di novembre quindi vedrò un po' come stanno messe in quel periodo e tutto il resto e come ho detto niente curiosità c'è devo ammettere che promette bene si presagiscono casini, guerra, lotta, altra gente che va a rompere da quello che ho capito i coglioni al Wakanda e tutto il resto quindi niente ragazzi è un trailer promettente come vi ho detto io lo sto guardando appunto con gli occhi sbarrati cioè gli occhi sbarrati la mente è totalmente aperta però devo ammettere che questo trailer anzi questo teaser perché comunque è un teaser la curiosità è riuscita a mettermela e non è poco considerato che si tratta di una franchise della Marvel che mi ha davvero purtroppo interessato poco bene anche questa reaction si conclude qui io spero che vi sia piaciuta come sempre vi ricordo che se volete sostenermi dovete iscrivervi al canale soprattutto seguirmi su Instagram link in descrizione dove tengo sempre aggiornati su tutto e mi raccomando seguitemi anche su TikTok link sempre in descrizione se volete sostenermi ulteriormente con una donazione c'è un link in descrizione e il tasto super grazie lasciatemi un messaggio personalizzato con super grazie se decidete appunto di farlo così vi potrò ringraziare nel prossimo video ma soprattutto ricordatevi di cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi assolutamente nessun nuovo video come sempre poi vi ricordo che in descrizione troverete i link delle pagine Facebook dedicate a The Walking Dead Cary d'Italia e The Walking Dead ETA Family su Cary d'Italia recentemente abbiamo fatto una live dedicata al panel di San Diego e al trailer che è uscito di conseguenza dove abbiamo fatto proprio un'analisi frame per frame la potete trovare appunto in pagina se ancora non la conoscete potete trovare davvero tante cose belle e bellissime dalle news alle curiosità alle immagini e appunto le nostre live pubblicate The Walking Dead ETA Family è una pagina con cui collaboriamo dove potete trovare davvero di tutto inerente a tutto l'universo della serie spin off compresi immagini di mamme divertenti analisi, approfondimenti, news e chi più ne ha più ne metta insomma ragazzi se amate The Walking Dead seguite queste due splendide pagine Facebook se questa reaction vi è piaciuta vedetemi un bel pollice in su e fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate se come me siete poco interessati ma comunque il trailer vi ha messo curiosità se invece siete intrepidante attesa perché Black Panther vi è piaciuto tantissimo se siete indifferenti, se non vi è piaciuto insomma ragazzi commentate, commentate tanto perché così aiutate l'algoritmo a far salire il video e aumentare le visualizzazioni quindi mi raccomando ragazzi dai sostenetemi anche così fatevi sentire io vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti